E' un onore coraggio di lavorare sul genere sfidando, voglio dire, culture e realtà più forti e non ha nulla da invidiare a queste culture e queste realtà più forti. Credo che sia un film intelligente, forte, molto ben costruito. Gli faccio e faccio a tutti loro, agli intreppi, ai produttori, agli amici, a Giampaolo, i migliori auguri. Sono felice e onorato di averlo cessa in questa cultura. Mi scuso con voi ma devo veramente scappare. Il bocca al lupo donato, il bocca al lupo donato, il bocca al lupo donato, il bocca al lupo donato. Grazie per noi. Grazie, bocca al lupo anche a te Antonio, a te la bocca al lupo donato.